La provincia di Piacenza conferma anche quest'anno la realizzazione di Con Cittadini 2013, progetto che coinvolgerà 2400 studenti piacentini e 400 tra docenti e genitori. I ragazzi dovranno sviluppare idee e progetti dedicati a tre argomenti, diritti, legalità e memoria. Il primo incontro che si è tenuto questo pomeriggio presso la sede dell'ente di Via Garibaldi non poteva che essere dedicato ancora una volta alla giornata della memoria. Relatore d'eccezione è il professor Francesco Maria Feltri, insegnante e collaboratore scientifico del Museo Monumento del Deportato Politico e Razziale. L'assessore alle politiche giovanili Massimiliano Dosi ha ricordato che nel corso dell'anno scolastico gli studenti avranno anche la possibilità di visitare la sede della provincia di Piacenza, l'Assemblea regionale a Bologna e il Museo Cervi a Reggio Emilia. Questi ragazzi verranno quindi coinvolti direttamente dalla provincia per varie tematiche. Quest'anno sono tre le macro aree individuate, sono i diritti, la legalità e la memoria. Avranno la possibilità di lavorare insieme, quindi i più piccolini con i più grandi per scambiarsi le proprie esperienze e poi ci sarà una seduta qui in Consiglio Provinciale dove i ragazzi presenteranno i loro lavori. La nostra classe si occupa dell'analisi del genocidio della ex Yugoslavia, quindi del Kosovo, della Bosnia, della Croazia e della Serbia. Mentre altre classi si occuperanno del genocidio per esempio della popolazione africana degli Utu e Tuzzi. Noi tramite fonti, storiografiche, libri, anche testimonianze dirette produrremo una decina di pannelli di poster. Adesso stiamo analizzando cronologicamente gli avvenimenti. Abbiamo visto quanto l'azione degli altri stati, tipo europei o comunque anche l'intervento degli Stati Uniti, non sia stato qualcosa di immediato, ma anzi prima si limitava l'azione degli altri stati a livello umanitario e non politico. Siamo andati con le altre scuole a Dresda, a Weimer, a vedere i campi di concentramento Takao, Mittelbau, Dora. Cosa ti ha colpito di questa esperienza? Mi ha colpito tutto, perché a partire dai campi, anche a vedere le città in sé, è stata un'esperienza fantastica, ma anche dal punto di vista sentimentale deprimente. Io non sono riuscita neanche ad entrarci per vedere, perché mi sono immedesimata a quelle persone che hanno vissuto questa esperienza e non avevo il coraggio di sentire la guida.